Musica Ieri il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha presentato un piano per il rilancio dell'economia e per il sostegno dei redditi in Italia. La CGL sembra dalle prime reazioni apprezzare questo piano del governo Renzi. Siamo con Giorgio Cremaschi che rappresenta la minoranza interna della CGL alla conclusione di un congresso. Condividi questo giudizio del Camusso? No, no e devo dire che sono anche un po' stupito di quanto durino poco le mobilitazioni in CGL. Cioè domenica è stata proclamata la grande mobilitazione, la settimana di lotta è già finita, un paio di interviste e via. Cioè così il sindacato muore, con questa poco serietà il sindacato muore. Ma sostanzialmente dice la Camusso che alcune delle nostre proposte sono state accolte. Ma io non so, io credo che Susanna Camusso non sappia neanche lei, al di là di tutto, perché Renzi si fa vanto di non dire le cose di quei sindacati, non sappia neanche lei quali sono le proposte. Io in questa cosa qui vedo una cosa, ho visto che è stato fatto un po' un paragone con Vanna Marchi, Berlusconi, venditori di pentoli. A me invece ha fatto venire in mente il sindaco Lauro, il sindaco Lauro degli anni 50, sindaco monarchico di Napoli, il quale prima delle elezioni distribuiva la scarpa destra e dopo le elezioni distribuiva la scarpa sinistra. Qui abbiamo una promessa di 10 miliardi che verranno dati a partire dal primo maggio, ma con scadenza il 27 maggio, cioè il giorno dopo le elezioni. Quindi la gente avrà la promessa il primo maggio e prenderà i soldi il giorno dopo le elezioni e dopo ancora le elezioni saprà dove si prendono questi soldi, perché io non ho trovato, ho visto che ci sono molte operazioni cosiddette di finanza creativa, cioè nel senso che hanno detto abbiamo recuperato un po' sul deficit, un po' sullo spread, un po' bla bla bla, un po' qua. Poi dopodiché ho visto che Cottarelli e Padoan, che sono quelli che tengono la cassa, che hanno detto che comunque dall'anno prossimo questi soldi saranno pagati con tagli, con tagli alla spesa pubblica, il che vuol dire che al di là delle balle sulle spreche eccetera, che ce li pagheremo noi. Questo per la semplice ragione che anche questa mattina Del Rio ha detto, noi siamo il ministro, il sottosegretario del governo, ha detto noi siamo in piena continuità con il rigore del governo Monti. Quindi si può fare il gioco delle tre carte finché si vuole, ma se si trovano 10 miliardi e questi 10 miliardi si danno ai lavoratori, si dice, poi però si dice anche che si continuerà ad accettare tutta la politica di rigore di Monti e allora qualche cosa li pagherà, qualcuno li pagherà e quindi io temo che appunto finita la campagna elettorale agli stessi lavoratori a cui da un lato viene dato i soldi, dall'altra mano verrà presentato il conto in termini di servizi pubblici, servizi sociali, tasse sulla casa, tasse sulla sanità, servizi e tutto il resto. È finito il congresso nella prima fase, nel voto dei militanti, dei iscritti alla CGL, voi avete denunciato gravi irregolarità nel congresso stesso, ma comunque il risultato della mozione di minoranza è importante, 45 mila voti sono una base importante di militanti che hanno deciso comunque di esprimersi in questo congresso. Cosa farete di questa forza e come la spenderete nella prossima fase? Beh intanto quello che sto dicendo adesso fa già parte di quello, cioè noi non accettiamo più il sindacato dell'immagine. Devo anche dire per aggiunta alle cose che dicevo prima che la cosa che qui mi colpisce è che tutti parlano di lavoro, giovani eccetera, poi gli unici provvedimenti certi che ha varato ieri il governo sono quello di aumentare i contratti a termine e di renderli ancora più facili, quindi aumentare la precarietà e di rendere ancora peggiore la condizione degli apprendisti, paghe più basse e nessun vincolo di formazione vera. Quindi questa è la sostanza, quindi noi siamo di fronte al fatto che c'è un governo che va avanti con una politica liberista e la CGL non si oppone, questa è la sostanza, non contrasta, è dentro il palazzo questa è la questione di fondo che abbiamo posto nel congresso su cui abbiamo ripreso tanti voti ne avremmo presi molti di più, voglio dire, se il congresso fosse stato un congresso fatto con regole democratiche applicate democraticamente, perché noi abbiamo preso, io voglio dire questi 45 mila voti li abbiamo presi partecipando al 20% prima dei congressi, cioè negli altri 80% dei congressi non ci è stato permesso, non ci è stato possibile partecipare, negli altri 80% dei congressi ha votato il doppio della gente che ha votato nei nostri congressi, noi nei prossimi giorni denunceremo il fatto che nel congresso della CGL c'è una marea di voti non attendibili, non credibili sicuramente non veri, quindi siamo di fronte a un problema enorme di democrazia nel sindacato e di efficacia del sindacato, come dicevo prima, un sindacato che annuncia la guerra con Renzi la domenica in televisione perché gli dà fastidio l'intervista di Landini e poi dopo, il giorno dopo senza avere le carte, senza avere i dati, di fronte alla precarietà del mondo del lavoro dice, ah bene, siamo sulla strada giusta, è un sindacato che non è, che sta precipitando in una crisi senza precedenti. Noi continueremo a contestare la gestione del gruppo dirigente attuale di Susanna Camusso. Voi avete presentato una posizione alternativa ma durante il congresso si sono manifestate anche contraddizioni importanti, polemiche dure all'interno di quella che è la grande maggioranza comunque del voto della CGL tra Susanna Camusso e Maurizio Landini, anche nella scelta degli interlocutori politici sembrava quasi che ci fosse un asse tra Landini e Renzi. Come pensate che si concluderà anche nella costruzione dei gruppi dirigenti e nel rapporto con dei nodi importantissimi come quello sulla legge e sulla rappresentanza? Noi siamo d'accordo con Landini, anzi onestamente la rivendichiamo come nostra primogenitura ma non è importante, però qualche volta riesco a dirlo, nella battaglia contro l'accordo del 10 gennaio che secondo noi ripende quello del 31 maggio, cioè il testo unico sulla rappresentanza è un testo unico autoritario, le sanzioni dei delegati, cioè una battaglia per la democrazia del sindacato la stiamo facendo nei congressi, se qualcuno oggi ho visto che si comincia a dire che bisogna controllare i fondi dei sindacati, bisogna evitare il conflitto di interesse tra i sindacalisti e sindacalisti e sindacalisti che fa l'assicuratore, le pensioni eccetera, sono nostri cavalli di battaglia, siamo totalmente d'accordo in una battaglia di trasparenza, dimagrimento burocratico, democrazia nella vita del sindacato, quello con cui non siamo d'accordo con Landini è il fatto che l'interlocutore di questo sia Renzi, questa mi pare proprio una contraddizione di Landini inspiegabile e che dovrebbe spiegare perché non con i giochi della politica e del palazzo su cui purtroppo rischia di essere spiegabile ma come politica. Landini il 12 ottobre è andato in piazza, lo voglio ricordare perché il mondo si dimentica facilmente le cose, di una grande manifestazione, la via maestra in difesa della Costituzione. Renzi sta affossando la Costituzione con una legge elettorale che è una legge elettorale barbara, allora non si può per dirne una essere contro giustamente, l'accordo autoritario sulla rappresentanza sindacale è tacere o far finta di niente rispetto alla legge elettorale voluta da Renzi e Berlusconi che è l'equivalente a livello più generale dell'accordo sindacale. Questa è una contraddizione che ci fa dire che la nostra in CGL oggi è l'unica vera posizione di limpida sinistra sindacale, le altre purtroppo sono posizioni con cui volta per volta si può condividere ma che purtroppo non fanno la scelta che noi crediamo invece indispensabile, cioè quella di una contrapposizione vera ai palazzi e a tutti i palazzi. Se dovessi dirle con una battuta sbaglia Susanna Camusso per cercare di avere un po' di spazio con Renzi ad appoggiarsi a Squinzi alla Confindustria Cisleville è una catastrofe, è un disastro ma sbaglia anche Landini per avere più spazio con la Camusso ad appoggiarsi a Renzi, cioè nessuno dei due è sbagliato a grapparsi agli altri, bisogna ricostruire la forza dei lavoratori.